Il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, avrebbe parlato a Teleradio più, parlando proprio della sua squadra calcistica in Milan, i Rosso-Neri. E cosa avrebbe detto a proposito del Milan Berlusconi? Avrebbe detto le seguenti parole. Io penso che dopo 30 anni per me sia arrivato il momento di passare la mano, ma voglio lasciare il Milan a chi saprà renderlo protagonista in Italia e nel mondo, a chi si impegna a mettere soldi ogni anno nella squadra. E poi Berlusconi si sarebbe occupato anche di parlare di Francesco Totti, il calciatore di Roma. E a proposito di Totti, Berlusconi avrebbe detto le seguenti parole. Dopo gli exploit delle ultime partite è giusto che la società gli dia la possibilità di un'altra stagione. Mi sembra una cosa giusta tenerlo poi come dirigente della Roma. Così avrebbe detto Berlusconi. Vi ringrazio per l'ascolto e il video terminava. Iscrivetevi, commentate. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di conoscenza.